Amici, è tutta questa mattina che strippello, ho fatto anche dei live. Spero vi siano piaciuti, anche se sono un po' strippellati. Quindi, purtroppo le cose non vanno bene. Viviamo in una famiglia in due, siamo tutti due malati. E c'è l'eserimento, l'impressione, l'angoscia continua. Mia madre è in un letto. Cercheremo, insomma, di farci coraggio e metterci la tutta. Voglio dedicare questo pezzo alla buona sorte che ritorni in casa mia. Grazie. Ciao. Grazie. 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 Grazie.